Immaginatevi essere Riot Games e ci sono già i teaser sul nuovo campione, su Samira, questa nuova tiratrice superattiva, abbiamo visto tutte le informazioni grazie al leak della streamer brasiliana, abbiamo avuto la conferma che sono tutte cose vere perché è uscita anche la cinematica di Targon e passando nel vecchio video dicevo una cosa del tipo Sì c'è anche qualche informazione su Seraphine che è il campione dopo ma si sta assolutando che è un mago incredibile legato alla musica, bene, tutto nella norma sì insomma abbiamo qualcosina in più sul campione dopo e poi un pazzo, non si sa come, su Reddit ha trovato il suo account social Signori, la Riot ha creato, sembrerebbe, sembrerebbe, sottolineo cento volte questa cosa, la Riot ha creato degli account social per Seraphine, c'è il suo Twitter e c'è il suo Instagram e il suo primo post è questo, cioè questo è di giugno questo post eh, rendiamoci conto E ci sono una marea di post, uno dietro l'altro, che sono delle foto vere con lei disegnata sopra, che è, sono così genuinamente confuso da questa idea, che devo dire è assolutamente fucking geniale Non so se prendermi bene o prendermi male, perché allora, vi ricordate come poi dicevano che era una cosa, è un mago incredibile legato alla musica? Volete sentire la sua voce? Perché c'è! Questa è una cover di Childhood Dreams E' una canzone fatta bene, troppo bene per essere una cosa fatta, non dico a caso, ma per divertimento Anche tutti i disegni, anche tutti i post, tutte le preparazioni C'è veramente uno studio dietro ogni singola cosa creata E c'è anche quello che secondo me potrebbe essere anche un teaser per una possibile canzone di release per Seraphine Che è questa E dice, work in progress time, working on a new song, non sono sicuro di che cosa diventerà Questo non lo fai in casa Questa è roba che devi avere un minimo di pratica, con un bel po' di strumenti Proprio di quelli professionali E magari uno adesso dirà, ah, è una cosa da fare, ne sono certo al 100% che qualcuno lo dirà Ma è un account così ben studiato In cui c'è l'aspetto del campione in più casi, in più pose, in più posizioni Oltre al fatto che, vabbè, lo so che può suonare strano Può suonare, non strano, ma stupido Ma c'è anche un'idea, secondo me, su una tempistica Questo c'è scritto ciao Hello In cinese Regà I mondiali sono in Cina Serve una canzone La leghi con il nuovo campione E ci crei tutti questi contenuti attorno per preparare la gente E sincero, ce ne sono tanti, eh Non è che sono pochi contenuti, sono veramente tanti Cioè, anche su Twitter C'è un sacco di roba per... Oggi tutti le hanno messo il follow, proprio perché è stato fatto questo post E è uscita fuori questa roba Soltanto per crearlo Che, allora Io posso capire che qualcuno magari possa essere scettico Che uno dice, vabbè, dai, è solo una tua idea È solo una tua convinzione Dai, figurati, la possedano fatto una roba del genere Ma è una roba così maledettamente complessa da fare E qualcuno, su Reddit, visto che il post comunque è uscito su Reddit Mi sembra giusto fare le giuste dovute citazioni Su Reddit fanno notare un paio di cose Su un tweet Su un tweet Un tizio gli chiede Hey, ti piace League of Legends? Sì, mi piace League of Legends Ok, che uno può dire Vabbè, non è niente Magari è soltanto una cosa Una combinazione casuale E poi su una delle sue foto di Instagram Vedi questo Che è un Tibbers là dietro Ora, sapete quanto cazzo è difficile Prendere una foto Di una persona E disegnarci sopra Con il gatto che è vero, eh Cioè, perché lo si vede anche in altre foto È sempre lo stesso cazzo di gatto Sempre lo stesso Ci devi disegnare sopra Sempre con lo stesso stile Sempre facendo lo stesso personaggio Che uno può dire Vabbè, Lapo, se sei abbastanza bravo lo fai Ma sono troppe cose combinate insieme La musica fatta troppo bene I disegni Le impostazioni Non... È tutto Troppo ordinato Tutto troppo maledettamente Ordinato Senza considerare poi Uno dei fatti più importanti in assoluto Il fatto che uno dei... Un tizio nei commenti Sette settimane fa Puramente a caso Perché questo tizio Probabilmente non sapeva neanche Se fosse un nuovo campione Aveva scritto questo commento Beautiful artwork Con un cuore... Con un simbolo Che non si capisce che cosa sia E lei risponde E l'account ha risposto Ha risposto Questa non è arte, sir Questo sono io Chi risponderebbe a questa maniera? Serio Chi risponderebbe a questa maniera? Questa... Sono io Questo non è un disegno Non è una cosa Sono io Così E... Ma ce n'è una marea di foto E questa è la roba più assurda in assoluto È veramente insane La quantità di impegno Senza considerare Le cover delle canzoni E tutto È... Oltre al fatto che c'è anche qualche... Qualche info in più Sul fatto che si trovi a Los Angeles Sul fatto che sia lì per lavorare Los Angeles è dove ci sono i studi di Riot Games È proprio... È concepito In un modo Che è geniale Senza considerare che Il gatto si chiama Bao Per favore datemi un altro più... Un pochino di aiutino in più Per spingerla in Cina Come personaggio Quando arriva nei mondiali lì Serio È... La Riot ha fatto un teaser Per un campione che uscirà Probabilmente durante i mondiali Cioè 8 settembre-ottobre Fine settembre Metà... Secondo me esce a metà ottobre E l'ha fatto da giugno E ci sono tutti i post E ci sono dei video E adesso la gente sta cominciando a taggarla In post Dove... Dove ovviamente Tutti fanno il teaser Oh mio Dio Mio Dio Mio Dio Ma qui ne è un personaggio nuovo Un personaggio nuovo Che cosa c'è Che poi si può vedere anche Da che cosa segue su Instagram Che sono principalmente Account di artisti Sono artisti asiatici Che sia dalla Cina Che sia dalla Corea Che siano giapponesi Che segue una marea Di asiatici E anche di fumettisti Disegnatori Eccetera eccetera Che alcuni mi fanno anche venire il dubbio Magari Alcuni li segue Proprio perché Mica scemi Mettono il follow Sugli account degli artisti Che hanno fatto I suoi disegni Stesso discorso Si può dire anche su Twitter Su Twitter Ha proprio alcuni degli account Di compagnie O ditte O band O cose Che Hanno una rappresentanza in Asia Quindi Riot Per supportare Non lo so Un personaggio musicale Ha creato un account social L'ha riempito di post L'ha riempito anche di piccole canzoni Che quelle due Quelle due canzoni E Ha creato una storia Proprio come Vi ricordate per i True Damage Che cosa era successo Che c'erano i post Nella vita reale Dei True Damage Secondo me stanno cercando Di replicare la cosa Però È strano un solista Non lo so Ho la sensazione Che mi manchi Un'informazione Che ci sia qualcosa In più Che Secondo me ci verrà Rivelato poi Ne sono convinto Non manca troppo Perché Se arriva in mondiale Vuol dire settembre Ottobre Al massimo Sono molto in hype La Riot Che ci sta regalando Campioni Perché hanno detto Sei campioni all'anno Perfetto Ogni mese ce n'è uno Nella seconda metà dell'anno È assurdo Uno per settembre Uno per ottobre To Ne buttiamo uno A novembre E aggiorniamo Mundo a dicembre Così for fun Non Non lo concepisco Davvero È assurdo Davvero complimentoni A Riot Perché hanno tirato Su questa roba Sono proprio curioso Vedere come Come progredirà Vi lascio i link Nei commenti Degli account Così che potete Seguirli Per rimanere Aggiornati Signori Che cosa ne pensate E prima che qualcuno Dica Maledizione Perché so che qualcuno Dirà Quei capelli viola rosa Ricordano Zoe Siete stronzi Vi odio Ma vi voglio anche bene Per questo Maledetto K-pop Che ha creato Questo stile di capelli E che Funziona ovunque Bella Bella